Le case torri di Via Puccini, pressi di Corso Gramshi. Alla fine degli anni 60 del XX secolo furono trovati elementi consistenti di antiche case torri che rimandavano ad esempi pisani del XII secolo. Di queste interessanti sopravvivenze si occupò lo storico Natale Rauti in un articolo pubblicato per l'edizione del 1977 del Bullettino Storico Pistoiese.